Prenderanno il via intorno al 10 di giugno i lavori di ripascimento in quattro punti della costa di Roseto degli Abruzzi. Interventi che interesseranno nello specifico la zona nord di Cologna Spiaggia, la più martorriata in questi anni, la zona nord di Roseto in corrispondenza di Viale Macarska, la zona sud al ridosso del Pontile, la spiaggia nei pressi del Porticciolo. L'importo totale per Roseto è di 200.000 euro, ma la grande novità è legata al fatto che dopo tanti anni il ripascimento si effettuerà via terra e di notte e non più via mare come è accaduto negli ultimi cinque anni. Abbiamo lavorato anche qui in sinergia, in velocità, con grande contezza nei tempi giusti, 200.000 euro di finanziamento per la protezione della costa ottenuti dalla regione Abruzzo grazie alle interlocuzioni avute da me e dal vice sindaco subito dall'inizio del nostro mandato. Ieri proprio in Consiglio Comunale abbiamo ratificato la variazione di bilancio che verifica questo importante investimento che con un progetto validato e inviato in regione per il parere vedrà da qui ai prossimi giorni già l'avvio dei lavori su quattro tratti del litorale, quindi da Cologna a spiaggia fino al Roseto Sud. Per la prima volta sarà fatto nel mese di giugno, ma nei prossimi anni speriamo anche con gli interventi di protezione delle scogliere di ridurre sempre al minimo gli interventi di ripascimento perché dal momento in cui si lavora sulla protezione, come abbiamo fatto a Cologna, ricorderete già nel mese di aprile, questi interventi sono risolutivi e non sono dei pagliativi dei soldi pubblici che vengono purtroppo, come negli anni scorsi, a luglio addirittura ad agosto, buttati. La regione ha stabilito inoltre due siti specifici per prendere la sabbia, uno a Silvi e uno a Martinsicuro. Si ridurranno notevolmente i tempi burocratici perché per fare ripascimento via terra non sono necessari tutti i permessi che servirebbero i propri lavori sul mare. Il ripascimento ovviamente rappresenta un intervento temporaneo per dare tranquillità alle attività balneari nella stagione estiva, ma per risolvere definitivamente il problema sono necessari i lavori per il rinforzo delle scogliere. Dovranno essere completati entro la metà del mese di giugno, al massimo entro il 20 perché questi sono i tempi giusti per permettere alla nostra città di essere attraventi e attrattiva, come dico spesso e come credo che Roseto possa e debba essere.